Mister arriva a questo pareggio con la squadra che è stata brava a reagire allo svantaggio e anche in dieci uomini ha cercato comunque di costruire nel secondo tempo, non è arrivato il gol della vittoria. Esatto, è una squadra che secondo me meritava la vittoria, purtroppo non abbiamo fatto gol su una circostanza chiarissima. Poi giocare ogni domenica con ingenuità, con uno in meno, fare l'iterazione, proteste eccetera, si fa fatica. Abbiamo avuto tante occasioni per tirarci fuori, è giusto così, purtroppo se siamo condannati ai play-out vuol dire che la colpa è nostra, quindi ci assumiamo le nostre responsabilità. Adesso stacchiamo due giorni, dopodiché ritorniamo con un'altra testa perché così se no si fa dura. Io sono fiducioso, però anche i ragazzi devono un po' farsi un esame di coscienza perché non possiamo regalare sempre un uomo o un episodio a favore dell'avversario. Questa è la verità, quindi buona Pasqua a tutti. Mister, il Montesilvano che ottiene questo punto che lo mantiene ancora momentaneamente fuori dalla zona play-out. La squadra che è stata brava anche a ottenerlo su un campo difficile contro un avversario che voleva punti per la salvezza. Si è eletto bene, sapevamo che era una partita difficile, l'avevamo preparata bene in settimana, al novantesimo se ci scappa il gol siamo salvi, però abbiamo la consapevolezza di avere il coltello alla parte del manico perché vincendo non dobbiamo guardare risultati né altro. Quindi come ho detto venerdì in conferenza stampa, dipende solo ed esclusivamente da noi, noi siamo padroni del nostro destino, quindi non dobbiamo stare a guardare radio, televisioni, internet o altro. I ragazzi già lo sanno, sanno che domenica dobbiamo fare la partita per portare a casa il risultato pieno.